Cosa non si farebbe per una foto? Durante la partita di NBA tra i Los Angeles Clippers e i Milwaukee Bucks, una palla è finita tra le braccia di una tifosa, che invece di restituirla, ne ha approfittato per immortalare un incredulo Blake Griffin. Let's get it in. Paul will let it fly at the horn and the Clippers escape with a five-point lead over the pesky Milwaukee Bucks.